Da ieri e per qualche giorno il parcheggio nell'ex caserma dei vigili del fuoco di Viale Dante sarà aperto e custodito solo fino alle 14. Al termine di questa settimana poi dovrebbe arrivare lo stop definitivo. Non viene nessuno, spiegano dalla cooperativa futura che gestisce lo spazio, e non sappiamo proprio cosa farci. Al massimo abbiamo visto 3-4 veicoli in tutta la giornata, in molti casi addirittura nessuno. Di contro abbiamo centinaia di euro di spese quotidianamente. La cooperativa, visto il flop iniziale, aveva chiesto al comune di valutare la possibilità di concedere un contributo. Tutti sanno ormai le difficoltà di bilancio a cui anche noi dobbiamo fare fronte, non per colpa nostra, precisa l'assessore Giorgio Cisini. Quindi non abbiamo a disposizione fondi per questo progetto e non possiamo lasciare il posteggio aperto ma incustodito. In ogni caso nessuno potrà accusarci di non aver provato a rispondere alle esigenze dei cittadini.